Un operaio della ditta d'appalto Pitrelli è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel reparto agglomerato dell'Ilva di Taranto. La vittima è Cosimo Martucci di 49 anni di Massafra. A quanto si è preso è stato schiacciato da un grosso tubo d'acciaio che aveva imbragato e stava caricando su un camion dopo i lavori di smontaggio di una canna fumare nel reparto agglomerato. Il tubo si sarebbe sganciato dall'imbragatura durante le operazioni di scarico del materiale dall'autotreno. L'operaio pare sia morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero immediato degli operai dell'Ilva e delle ditte appaltatrici in seguito all'incidente. Capita una giornata particolare perché oggi siamo qui con questa riunione del Comitato Europeo sulla Siderurgia e una bruttissima notizia che abbiamo appreso poco fa. È inaudito quello che è accaduto perché trattasi di un incidente secondo me è evitabilissimo. Non si può morire schiacciati da un tubo che cade dal camion. Questo è un problema che ha a che fare col fatto che per troppi anni alcuni impianti dello stabilimento sono al collasso perché non si sono garantiti condizioni di manutenzione, di investimento anche se questo è un discorso che non ha direttamente un legame con quello che è successo di cui io non so le dinamiche e per il motivo per cui è avvenuto. Mi riferisco a situazioni passate. Siamo di fronte all'ennesimo dramma. Non è più possibile tollerare morte sul lavoro e dentro l'Irlo in particolare. È necessario che si avvie velocemente il processo di investimento che in questi anni è rimasto bloccato che sta determinando un processo di rischio continuo sul lavoro. Ci spinge ancora una volta a riflettere su quelle che sono le norme sulla sicurezza del lavoro. Evidentemente tanto è stato fatto ma tanto c'è da fare ancora, soprattutto nell'ambito della siderurgia che è un lavoro, un ambiente molto complesso. Intanto un saluto alla famiglia e tutti i familiari del povero lavoratore. Credo che sia, non so se chiamarlo una prassi, però l'obbligo di comunque testimoniare ancora una volta che in quello stabilimento la sicurezza non è mai troppa, anche in questa giornata la dobbiamo mettere al centro.